Domenica 4 settembre, ore 16, impegno, andata a ottavi Coppa Italia Eccellenza tra Barletta e Vigortrani. Match da disputarsi sul sintetico di Omede del quartiere San Paolo di Bari. Le due compagini preparano l'esordio ufficiale e in casa Barletta a suonare la carica, mister Sergio Lacava. Finalmente c'è il primo match ufficiale, finalmente arriviamo alla settimana che ci porta ai primi tre punti importanti di questa nuova andata calcistica. La squadra abbiamo fatto una lunga ghiacchierata all'esterno dello sfogliatore perché era molto caldo all'interno e credo che hanno capito le responsabilità che abbiamo e i lavori che dobbiamo fare con più intensità questa settimana. La Coppa Italia è un viatico che porta in Serie D, noi ci dobbiamo credere anche alla Coppa Italia, ma giocheremo come se per noi fosse la prima giornata di campionato. Quindi credo che non solo il sottoscritto sa questo, ma lo sanno anche i ragazzi che ci tengono a fare bene con la speranza che domenica ci segua anche un po' di gente da Barletta e ci dà una mano anche dall'esterno. I Biancorossi al Manzi Chiapolin per gli allenamenti di tipo fisico e tattico e nella giornata di giovedì a Manfredonia per un test amichevole. Giovedì abbiamo una buona amichevole, un buon test a Manfredonia e poi ci alleneremo anche venerdì e sabato. Penso che sono giornate normali di allenamento, non va solo il sottoscritto, ma credo che fanno anche altre squadre. Quindi anche per quanto riguarda il lavoro sul campo, ormai siamo diventati un po' tutti, non dico megalomani del campo, però vogliamo sicuramente che sul campo si prepara quella che è la battaglia della domenica.